I carabinieri del Norma hanno eseguito due misure cautelari nei confronti di due persone originarie di Cosenza, rispettivamente di 54 e 41 anni, indagati per rapina aggravata in concorso. I fatti risalgono alle ore 9 del mattino del 24 aprile scorso, quando al 112 arrivò una chiamata nella quale si segnalava che due persone a volto travissato ed armate di pistola avevano appena compiuto una rapina in danno di una nota catena di negozi di abbigliamento di rende. I ladri si erano impossessati dell'incasso del weekend per un ammontare di 41.429 euro. Un colpo pianificato è compiuto con spregiudicatezza in pieno giorno e per giunta in una zona caratterizzata da sostenuto transito veicolare pedonale. Partite le indagini dei militari di rende hanno consentito di ricostruire con esattezza e precisione le varie fasi della rapina. Identificati due soggetti sono stati poi sottoposti, uno agli arresti domiciliari e l'altro alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I carabinieri, grazie anche ai sistemi di videosorveglianza dell'attività commerciale dove si è consumata la rapina e le immagini lungo il tragitto di arrivo e di fuga, si sono avvalsi anche delle testimonianze di persone che hanno assistito alla rapina, che hanno indicato l'abbigliamento indossato, che è stato poi rinvenuto nelle rispettive abitazioni. Alla fine uno degli attori ha anche confessato.